Hai mai desiderato visitare un luogo davvero magico? Un luogo dove in ogni incredibile paesaggio si nasconde un mondo invisibile ricco di storia e angoli mai toccati dal turismo di massa? Visitare Chachapojas è un'avventura tutta da vivere nel cuore della foresta ammazzonica peruviana. A Chachapojas, storia e natura si mescolano meravigliosamente in siti come la Fortezza di Quelap, un vero capolavoro di antica ingegneria peruviana. Inoltre, grazie alla recente introduzione di un servizio di funivia, questa antica meraviglia è ora raggiungibile in soli 20 minuti. A 40 chilometri da Chachapojas troviamo Gocta, una delle cascate più alte al mondo. Ammirare la cascata di Gocta in tutta la sua maestosità sarà un'esperienza indimenticabile che ti permetterà inoltre di visitare il cuore della foresta pluviale peruviana. Non c'è dubbio, Chachapojas è un paradiso naturale tutto da esplorare.